Ci sono dei malumori e dei dissapori all'interno del centro-sinistra, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il Costruire Democrazia, che è un movimento civico attento al cosa fare e poi al chi lo deve fare, sta ponendo una serie di questioni di carattere programmatico per definire quali sono le priorità della coalizione per salvare il Molise e per uscire da questa crisi. Non mi pare che tra queste priorità ci possa essere riciclare chi passa da destra a sinistra per convenienza né tantomeno rimettere in prima linea chi all'interno del centro-sinistra ha provocato soltanto disastri e non ha mai detto una parola contro il sistema di potere di Michele Iori. È quasi sicuro che si ritorni al voto, qualora dovesse succedere? E qualora c'è nuovamente la candidatura di Frattura come leader del centro-sinistra, lei sposa nuovamente questa tipologia di sistema? Io ho lavorato per unire la coalizione candidandomi personalmente alle primarie e ne ho onorato il risultato e il verdetto elettorale candidandomi facendo campagna elettorale e i cittadini hanno anche premiato visto che sono stato il più votato di tutta la coalizione di centro-sinistra. Oggi il tema a mio avviso è cambiato il mondo, quello che va definito, prima ancora di parlare di leadership, è la piattaforma programmatica. Che cosa diciamo in materia di sanità, di sociale, in materia di salvataggio di posti di lavoro sulle grandi industrie pubbliche, in materia di spartizione di poltrone? Mi pare che in questi mesi l'opposizione sia andata un po' a briglia sciolta e quindi credo che sia prioritario nell'interesse dei cittadini molisani definire prima cosa fare e poi vedere chi lo deve fare e insieme a chi. Quindi come dire è una minestra scaldata quella che si offre ai molisani. Lei in questo momento si sente vicino a qualche forza politica in particolare? Mi sento vicino al movimento civico Costruire Democrazia e ai cittadini con i quali condividiamo l'esigenza di fare politica in maniera seria e coerente. Non ci interessa nella maniera più assoluta mischiarci nel minestrone che vuole troppo spesso sulle grandi questioni, destra e sinistra, come un'unica marmellata.